La produzione ortofrutticola in Sicilia è oramai al collasso e urge attivare delle clausole di salvaguardia per tutelare gli agricoltori siciliani. La richiesta è stata lanciata al governo italiano dal senatore siciliano del gruppo Alleanza Liberal Popolare Autonomie Giuseppe Ruvolo, componente della Commissione Agricoltura. Nella nota il senatore Ruvolo invita il governo italiano affinché si attivi in Europa, per attivare le clausole di salvaguardia previste dall'Accordo Unione Europea-Marocco per tutelare gli agricoltori, nello specifico in Sicilia, dove la produzione di pomodori ha subito gravi danni. Si tratta di accordi, ha spiegato Ruvolo, che vanno rivisti. Ruvolo si riferisce in particolare alla salvaguardia del pomodoro siciliano. In Sicilia il pomodoro pachino è un prodotto di eccellenza e oggi viene messo in ginocchio dai produttori nordafricani, che non si attengono agli standard sanitari e ai disciplinari dell'Unione Europea, usando mano d'opera sotto costo e immettendo sul mercato prodotti a prezzi stracciati. La qualità invece, come giusto che sia, costa e la produzione ortofrutticola mediterranea ha subito un drammatico collasso, con i prezzi alla vendita dei produttori. Non coprono più nemmeno le spese di produzione, complice proprio il mancato rispetto delle misure di salvaguardia. Secondo Ruvolo. Ecco perché secondo Ruvolo urge un'inversione di tendenza. Nei giorni scorsi era stato il dottor Carmelo Pullara, che sposando la stessa causa a sostegno degli agricoltori licatesi, aveva scritto al Parlamento Europeo.